Piscine Lenaia di quale destino? Problema purtroppo annoso. Sono chiuse da venerdì scorso per ferie e non riapriranno perché la concessione dell'attuale gestore, la Pretuziana, scade a fine mese. Il bando della regione per trovare un altro gestore è stato prorogato al 18 settembre. Tutta la preoccupazione nelle parole di Enzo Imbastaro, presidente del CONI regionale. Sì, preoccupatissimo perché all'interno delle strutture dell'Enaia operano 500-600 atleti che fanno attività agonistica nella palla a nuoto, nel nuoto, nel nuoto sincronizzato, nell'arrambicata sportiva. Tant'è che un ragazzo dell'arrambicata sportiva proprio oggi è partito per Seul dove disputerà i campionati mondiali giovanili, però gli ultimi giorni non si è potuto allenare praticamente. Nonostante che la struttura è di proprietà della società di arrambicata e quindi... Siamo al paradosso qui. Siamo al paradosso, sì. Io spero veramente che la situazione si sblocchi al più presto, anche se ho qualche perplessità. Sport dunque penalizzato a 360 gradi, però insomma danno rilevante, presidente, anche e soprattutto sotto il profilo dell'occupazione. Beh sì, oltre ai dipendenti fissi dell'Enaia, che non so quanti sono, però sono parecchi, ci sono tutti gli istruttori che operano come istruttori nei corsi di nuoto, come allenatori nelle varie società, che sono attualmente diciamo senza luogo dove poter svolgere la loro attività. Quindi è un danno economico per tantissime persone, per tantissime famiglie che si ritrovano così senza avere un sostegno economico per poter andare avanti. Dunque un grandissimo punto interrogativo, i dipendenti devono ancora percepire gli ultimi stipendi, circa 600 gli atleti che fruiscono dell'impianto senza considerare i privati. Un giro insomma di migliaia di persone che oggi sono rimaste senza spazi. Il rischio che muoia un pezzo di storia è davvero concreto? Io mi auguro sinceramente di no, perché io ho vissuto l'epopea dell'Enaia da quando è nato, ero un ragazzo, andavo a sentire i concerti e quant'altro, le gare. Mi ricordo le sfide epiche fra di Biase e Cagnotto, perché c'era anche il trampolino per i tuffi, ci sono state parecchie edizioni dei campionati italiani di tuffi, ma anche i campionati italiani di tuffi, non ultimo il record mondiale della Pellegrini. Quindi è una struttura conosciuta in tutta Italia, direi in tutta Europa, che è un fiore all'occhiello della città di Pescara, dell'Abruzzo e dell'Italia. Spero che si possa al più presto trovare qualcuno che si accogli l'honor di questa gestione, senza dimenticare che comunque c'è bisogno dell'intervento pubblico, perché i lavori di risanamento e di messa a norma dell'impianto sono notevolissimi.